Che cosa può unire un caso irrisolto a Londra nel 1881 e un altrettanto insoluto ai giorni nostri a Milano? Con un intervallo di quasi un secolo e mezzo e in posti così distanti tra loro sembrerebbe nulla. Eppure, a bene raro, ex poliziotta e adesso titolare di un'agenzia investigativa, si ritrova a suo malgrado a doverli affrontare entrambi. Ma non sarà sola in questa avventura a darle una mano il fantasma di un famoso investigatore coinvolto nel vecchio caso londinese. Insieme, unendo materia grigia, unica cosa su cui poteva contare l'uomo nella sua epoca, e la tecnologia alla vanguardia del ventunesimo secolo a disposizione della donna, riusciranno a distritare l'ingarvogliata matassa. Un fantasy crime che si snoda fra colpi di scena e azioni rocambolesche.